ah questi sono altri miei cuscini ciao ragazzi vicino c'è un sole spettacolare oggi scusate ma il computer non si spegne questo l'ho preso al penny insieme a quello con lo smile 5,99 euro quello giallo con sorriso e la lavatrice nuovo video anche prima del nuovo video ASMR anche se Natale è venito adoro questo cuscino state lì iniziamo un nuovo video eccoci qua ragazzi l'alte prima l'ho fatta questo è il primo cuscino che voglio farvi vedere in tema natalizio l'ho comprato al penny come vi dicevo ed è morbidissimo io poi oggi sono stanca e quindi mi farei volentieri un pisolino questo bello morbido ho preso anche uno smile che l'ho messo a lavare a 30 gradi si può lavare anche questo 30 gradi si può lavare ed è rosso dietro questo l'altro giallo con lo smile e c'è l'albero con la stellina ed è tutto verde bellissimo mi piace tanto bello morbido oh che figa questo è uno dei tanti cuscini che ho vi vi ho fatto vedere la prima parte e questa è la seconda parte dei miei cuscini questo c'è poi questo di Lerwa Merlin che vi dicevo in un altro video tutti questi quadretti un po' ipnotici bello piccolissimo rispetto agli altri vedete che è molto più piccolo non so come ok qua vedete che è più piccolo si come grandezza è più piccolo però è più morbido tra quelli che ho ed è costato forse 1 euro 92 euro da Lerwa Merlin Merlin non so come si dice bellissimo ma anche se non mi piace il bianco e bianco su bianco non si vede la differenza però mi piace poi questo qui ve l'ho già fatto vedere rosso nell'altro video li ho visti tutti sul divano che mi piacciono mi piace addobbare la casa arredare la casa questo è un po' più duro rispetto agli altri da appoggiarsi ho sentito un po' di musica mi avevo detto no niente musica devo fare un video per i miei tesori per i miei dolci per i miei dolci per i miei dolci anche se non sono proprio in forma oggi quando mai lo saprà uno ma anche il cellulare scarico ho tante nuove collaborazioni in atto e arriveranno tanti video in collaborazione tanti tanti video in collaborazione tanti video in collaborazione questo è bellissimo così da una parte e così dall'altra con tutte le scritte e ve l'ho già fatto vedere poi mi ha avuto un piccane tutto ma allora mi scopri sia questo che quello rosso di prima l'abbiamo comprato al benedio mia madre anzi lei me l'ha regalato veramente me l'ha regalati questo season greetings bellissimo autunnale verde c'era o verde o marrone o rosso meglio ho preso rosso o verde perché marrone non mi piace ma anche se non mi piace questo qui mi piace perché ha un po' di marrone ma è glitterato vedete che ha delle perline quindi mi piace questo marrone ma forse è stato tutto un cuscino solo marrone marrone scuro non mi sarebbe piaciuto però è un po' autunnale il marrone e il verde sono colori autunnali la scritta season greetings su questa parte in rafia ha un rumore bellissimo c'è qua c'è un pisolino insieme con questa cuscina e con questi suoni con questi scratching bellissime queste perline rosse, verdi sono stati vicini la gente li passa siamo in mezzo alla strada nel senso siamo in un paesino con tante macchine che passano ma voi cercate di rilassarvi e chiudere gli occhi è andato tutto bene non sentite niente devo anche modificare il titolo non so se invece di meditazione devo aggiustarlo devo cambiare la scritta che ho scritto meditazione invece era un'altra cosa quella che volevo fare motivazione meditazione sono un po' confusa vabbè capita questo bellissimo marrone verde così con queste perline un po' marroni un po' rosse vedete qua la scritta season greetings quindi anche sopra uguale a sotto guardate con la luce che belle queste perline con la luce bellissimo mi piace molto lunale non è molto giovanile però mi piace non è più tanto valutino per appucciarsi va bene anche quello rosso andava bene ha pagato mia madre 5 euro 5 euro 2 più 2 prendi 1 paghi 2 mi sembra che era un'offerta io adoro i cuscini adoro l'arretamento quindi non me lo sono fatto scappare a voi piace? l'arretamento i cuscini mi piacciono mi piace tanto si adesso ok poi un ultimo cuscino che avete già visto nei vari vlog dell'altro canale ne abbiamo due ne abbiamo presi da JSPK Gisk non so come si dica ed è così tutto bianco semplicissimo bianco l'abbiamo anche lavato a 90 gradi mi sembra a 40 gradi non mi ricordo aspettate che si è cancellato questo qui da 5 anni che ce l'abbiamo si è cancellata l'etichetta tutto bianco è morbido però si sporca facilmente rispetto agli altri che se non è che ci versi qualcosa sopra non si sporcano questo qui si sporca in fretta e da tutte queste frange un po' rovinate però è molto bello bianco sul muro bianco con il muro bianco non è che si vedono grandi differenze di colore però mi piace è molto morbido molto morbido veramente morbidissimo una meraviglia una coccola proprio te lo stringi te lo abbracci è bellissimo io odoro i cuscini morbidi e da mettere appunto sul divano perchè è lunghissimo vedete lo fa appoggiato qui non deve bene anche appoggiato così però io lo metto sul divano proprio sul divano quando viene gente lo spostano ovviamente si siedano tutti ogni tanto lo spulcio quando sono nervosa gli tiro un po' i peli diciamo così lo spulcio un po' ed è carino è anti stress sono pazza va bene questo è il cuscino il cuscino bellissimo vedete queste frange così non so come si chiamano frange credo si chiamino frange non li affida comunque vabbè va benissimo questi sono i miei cuscini ragazzi a parte lo smile che è a lavare e mi sembra che non ne ho altri ah quello con la ciambella sembra del Penny si ne ho due ancora a lavare ma ve li farò vedere come sfondo negli altri video questi sono i miei cuscini ok vi faccio vedere quello rosso vada appoggiato sul divano noi abbiamo in casa un po' di pareti rosse un po' di pareti bianche un po' di muro nero bianco eccetera però nero no abbiamo i mobili neri mi piace riempire la casa di cuscini di mobili di quadri soprattutto di puzzle di cornici e tanti cuscini i mobili ne abbiamo tanti ma i cuscini non sono mai abbastanza per me quindi ok voilà adesso vi saluto spero vi sia piaciuto questo video anche se non è durato 20 minuti ci metto almeno poco a caricarlo perché sennò ci metto 2 ore e non voglio stare 2 ore a caricare un video e poi sono pochi quelli che guardano i miei video plastica pazzoletti suoni dicevo sono pochi quelli che commentano i miei video quindi continuate a commentare ragazzi cioè non mi abbandonate ok per favore adesso mi tiro ok continuate a commentare i miei video lasciate commenti perché a me fa piacere che commentiate capito a me fa piacere che commentiate quindi lasciate pure commenti positivi sempre educati sempre commenti educati mi raccomando però lasciate commenti perché a me fa piacere riceverli ok scusate i capelli scusate se sono struccata se non sono Megan Fox a presto